ciao a tutti e benvenuti nel canale youtube della maschera riposta io mi chiamo mosè e in questo video voglio dirvi amici perché ho deciso di ho deciso di sostenere un gioco su game found si tratta di inferno amici della red mo moho moyo games non so bene come si come si dica allora amici questo gioco è un german duro e puro e anche piuttosto pesante diciamo tra l'altro attenzione perché in questo esatto momento forse proprio su game found tra l'altro c'è un altro gioco vediamo se è vero che ha un nome molto simile che si chiama dante inferno ecco quello invece è un gioco american qui stiamo parlando del gioco che si chiama solo inferno ok ed è anche quello ispirato alla commedia dantesca quindi è strana questa coincidenza secondo me potrebbe creare confusione in qualche utente comunque noi stiamo parlando del gioco inferno non del gioco dante inferno sono entrambi appunto su game game found e ragazzi stiamo parlando di questo gioco soprattutto perché abbiamo avuto già occasione di provare il prototipo allo scorso spiel a esse nello spiel 2023 abbiamo fatto vari video a riguardo vi vi ricorderete se seguite già il nostro canale da un po ecco in quell'occasione provammo appunto il prototipo di questo gioco e c'era stato annunciato che sarebbe arrivato su kickstarter o su game found adesso non mi ricordo se già all'epoca annunciarono che sarebbe stato su game found e a me a giudicare dai video che 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 ho visto creati dai dagli youtuber che hanno il prototipo in mano il gioco sembra esattamente lo stesso che io abbia occasione di provare appunto lo scorso ottobre quindi non ci sono state non ci sono stati grandi grandi cambiamenti allora amici questo è un gioco interessante che però ecco ci tengo a sottolineare che il mio interesse non deriva stranamente in principalmente dal tema ok ma deriva invece dalle sue dalle sue meccaniche ok il tema è interessante è curioso è divertente siamo nei panni di famiglie fiorentine nella firenze medievale la firenze del tempo di dante e il nostro compito oltre a in un certo senso da un lato badare alle finanze della nostra famiglia insomma al suo al suo benessere al suo status nella città dall'altro lato dobbiamo anche però gestire l'inferno quindi accusare delle persone che poi vengono bruciate sul rovo le anime vanno all'inferno vogliono andare nel loro circolo perché c'è proprio sulla plancia la rappresentazione del dell'inferno dantesco ecco vogliamo dire che tematicamente il gioco è un po insomma cioè è bella l'idea della gestione delle anime nell'inferno non è secondo me ben collegata alla gestione della vita di questa famiglia fiorentina cioè non si capisce bene perché non si capisce bene perché una famiglia della firenze medievale dovrebbe anche badare alla amministrazione dell'inferno ecco io l'avrei visto meglio come un gioco che si tematicamente concentrato solo su una di queste due di queste due parti quindi diciamo che il tema vabbè è un po così però ragazzi le meccaniche sono molto molto interessante tra l'altro prima di parlare delle meccaniche allora ho guardato come ho già accennato ho guardato varie preview su youtube fatte da youtuber che hanno in mano appunto la coppia prototipo noi non ce l'abbiamo quindi vi facciamo vi facciamo questo video solo sulla base delle nostre impressioni derivanti dalle prove che abbiamo fatto a essen e da quello che vediamo nella pagina appunto game found e adesso non mi ricordo che canale era ma sono rimasto esterrefatto quando ho visto un video appunto di un content creator anglofono una coppia di content creator anglofoni non so se americani o inglesi probabilmente americani che dicevano sì abbiamo il prototipo di questo gioco basato sulla commedia di dante che mi sembra sia un libro diceva uno e l'altro no ma guarda che è un film penso sia ribatteva l'altro penso sia un libro che hanno però tratto da un film quindi penso che prima abbiano fatto il film e poi il libro no per dire per di per dire per dire vabbè non fatemi non fatemi dire niente riguardo a questa cosa volevo solo così raccontarvela come momento comico del del video allora amici perché questo gioco è interessante torniamo a bomba perché questo gioco è interessante dal punto di vista delle delle meccaniche perché allora questo è un gioco di impiazzamento lavoratori molto club apparentemente molto classico cioè nel nostro turno dobbiamo piazzare un membro della nostra famiglia in uno dei quartieri di firenze sono questi quartieri di firenze che vengono distribuiti sono otto se non ricordo male vengono distribuiti a caso e nei quattro quartieri di firenze o meglio le location vengono distribuite a caso nei quattro quartieri nei quattro quartieri di firenze sono otto location due per quartiere ogni quartiere avrà una location base e una avanzata quella base permette di fare una roba molto semplice quella avanzata permette di fare una roba un po più complessa però pagando avendo dei requisiti e richiedendo un pagamento e quindi apparentemente appunto sembra un piazzamento lavoratori classico nei primi turni andremo nelle location basiche poi riusciremo man mano ad avere sempre più risorse e quindi ad andare anche nelle location che avranno effetto più avanzato però sapete qual è l'aspetto interessante che non possiamo andare random in ogni location nel nostro turno perché possiamo andare solamente nel quartiere a cui corrisponde la posizione in cui abbiamo mosso l'anima nell'inferno perché la prima fase di ogni turno in realtà è la cosiddetta hell phase in cui dobbiamo o prelevare un'anima dal cimitero ok e le anime sono mipol colorati o prelevi e il colore corrisponde al peccato che hanno effettuato queste anime e al circolo dell'inferno dove sono destinate ok e quindi o prendiamo un'anima dal cimitero e la portiamo dentro l'inferno pagando una dracma a caronte il traghettatore infernale dell'ostige ok oppure muoviamo un'anima che c'è già nello nell'inferno e che non ha ancora raggiunto il suo il suo circolo ok quando l'anima raggiunge il circolo a cui è destinata ovvero la fascia dell'inferno del suo colore chi la mossa ottiene i punti vittoria però nel muoversi queste anime sbloccano in un certo senso anche i quartieri di Firenze quindi è in base al movimento che abbiamo fatto con l'anima che potremmo poi accedere a un determinato quartiere di Firenze già questa è una bella idea ok poi idea ancora più bella secondo me adesso qui non vi spiegherò tutto il regolamento è un gioco come vi dicevo molto complesso non abbiamo neanche la copia da mostrarvi quindi è un casino spiegarvela così semplicemente diciamo a parole fatevi fatevi un giro appunto nei canali dei content creator che hanno una copia prototipo in mano così da capire nel dettaglio le regole vi dico solo quello che ritengo appunto particolarmente interessante un'altra cosa che ritengo particolarmente interessante è il modo in cui è gestito il recupero dei lavoratori a un certo punto finiremo i nostri lavoratori ok quindi non lo so per esempio in Everdell si cambia la stagione ok oppure che ne so in Viticulture dobbiamo gestire l'uso dei lavoratori nel corso di tutto l'anno alla fine dell'anno li recuperiamo tutti ogni gioco di piazzamento lavoratori ha il suo sistema in Raiders of Scythia ne abbiamo sempre solo uno perché ne mettiamo uno e ne preleviamo un altro per dire ok vi dico alcuni esempi che mi vengono in mente ecco qua questa fase di recupero lavoratori è molto interessante perché la fase di recupero lavoratori è collegata all'accusare un'anima cioè quando toccherà a me e dovrò recuperare i miei lavoratori dovrò accusare un'anima questo avrà una procedura che porterà un'anima particolare dentro al cimitero ok la cosa interessante è anche l'interazione che causa questa questa procedura ok cioè io recupero i miei lavoratori però nel recuperarli mando un'anima all'inferno e quell'anima poi è disponibile per tutti ok cioè le anime all'inferno possono essere mosse da tutti ok quindi no c'è una bella interazione in diretta sapete che mi piace molto quando gli Eurogame cercano di veicolare appunto una buona interazione in diretta c'è c'è molta in questo gioco perché le pedine nell'inferno ok mentre a Firenze io muovo i miei lavoratori li piazzo dove voglio eccetera come in un classico piazzamento lavoratori invece tutta la parte dell'inferno le anime non sono dei colori dei giocatori le anime sono hanno dei colori che dipendono dai loro peccati e possono essere mosse da tutti ok quindi io quando muovo un'anima devo pensare a al quartiere dove devo andare b a dove vuole andare quell'anima c a cosa faranno i giocatori dopo di me con quell'anima perché magari io gliela muovo gliela avvicino al loro al cerchio dove quell'anima deve andare dell'inferno ed è quando quelle quell'anima raggiunge l'inferno il cerchio giusto che il giocatore che la mossa fa punti ok quindi magari per andare nel quartiere dove voglio a tutti i costi andare per fare quell'azione là ok sono costretto a muovere un'anima che poi il giocatore dopo di me porterà nel suo circolo e farà i punti ok quindi no è cioè mi piace molto questa cosa meglio far meglio non muovere quell'anima per far sì che lui non faccia quei punti però io perdere un turno perché non muovendo quella ne devo muovere un'altra che mi manderà in un quartiere che non mi interessa niente o meglio dare i punti è bella questa cosa poi altro elemento interessante di questo gioco all'inferno ci sono dei guardians ci sono due guardiani che nell'edizione dell'axe sono miniature ok e questi guardiani praticamente cambiano un po' il modo in cui funziona l'inferno cioè creano delle regole speciali in un certo senso e siccome ce n'è una certa quantità quanti sono ragazzi fatemi vedere ce n'è una certa quantità disponibile e se ne scelgono due allora medusa minotauro gerione re minus anteo cerbero basta uno due tre quattro cinque sei sei guardiani ok siccome siccome ci sono sei guardiani e ne scegliamo due in ogni partita cioè è carina questa cosa no cioè un modo per cambiare un po un po le regole aumentando così la varietà delle situazioni quindi anche questa l'ho trovata l'ho trovata una bella idea ok allora amici quanto vi costa sostenere questo gioco su game found allora sappiate intanto che sto guarendo dai dai miei mali cari amici perché non ho scelto l'opzione col tappetino o ragazzi mi sto liberando di questa ansia di avere tutto ok perché guardate io adesso sono su game found proprio la pagina italiana perché non so però se il gioco verrà tradotto in italiano so guardo se è possibile avere un italiano già dal game found adesso ve lo controllo comunque allora c'è la deluxe edition che è l'edizione base la chiamano deluxe perché avrà dei componenti che poi in vendita non ci saranno questo gioco andrà anche in vendita però appunto alcuni componenti non ci saranno nell'edizione nell'edizione in vendita poi c'è l'edizione del peccatore che è quella che è quella che ho preso io che ha oltre alla scatola le monete di metallo e le buste vabbè io volevo soprattutto le monete di metallo dei sacchetti dove mettere le monete le buste vabbè insomma ne avrei anche fatto a meno volentieri poi c'è l'edizione medusa che ha oltre a il gioco le monete di metallo le buste il play mat e la colonna sonora ecco siccome la l'edizione normale costa 80 e cioè 79 euro l'edizione del peccatore che è quella che ho preso io costa 98 l'edizione medusa costa 120 e costi 20 euro in più di play mat stavolta non li ho presi quindi ammiratemi amici per questa mia per questa mia scelta così così coraggiosa vabbè ci sono anche degli stretch goal che stanno che stanno che vengono sbloccati e vediamo invece se ragazzi se capiamo se c'è l'edizione italiana perché questo è importante allora beh nelle bandierine qui sulla pagina c'è anche l'italiano ragazzi quindi non so bene stai visualizzando in italiano questo progetto fa pare al programma stable pledge vabbè perché credo siano spagnoli questi qua di red mo 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 io credo siano spagnoli vabbè comunque pare ci sarà anche in italiano già direttamente con la campagna eh amici non mi ricordo però se mi hanno dato la possibilità di scegliere la lingua o se questo italiano si riferisce al fatto partner spagna germania usa l'edizione del dettaglio di francia disponibile in questi paesi tra queste partner però non c'è nessuno per l'italia tra i partner il team gli artisti cronologia del progetto vabbè controllate amici controllate allora spedizione tasse allora amici attenzione questo è interessante in europa zona è uno dell'europa la deluxe e la sinner quella che ho preso io la spedizione costa 11 euro ok quindi io con te che ho pagato 98 più 11 108 109 poi bisognerà aggiungerci le tasse immagino allora vediamo un po il crowdfunding può essere confuso specialmente quando si tratta di comprendere i vari pagamenti coinvolti mentre il costo delle ricompese comune a tutti però può variare in base a tua posizione papà papà ti verrà debitato e cosa pagamento 1 payment 2 spedizione tasse allora gruppo 1 alcuni sostenitori inclusi quelli negli usa cana di diversi paesi asiatici non pagheranno dazi le spedizioni in eu k australia nuova zelanda e cina rientrano nelle regioni di spedizione amichevole si applicherà il tasso di watt gst del vostro paese che noi raccoglieremo da voi e verseremo per vostro conto così che non dobbiamo preoccuparvi di nulla quindi si c'è anche l'iva ok quindi io qua ho 98 o 109 più 22 per cento ok se prendete la stessa roba che prendo io 109 più 22 per cento e 120 cento e un po più di 100 che tra cento 25 buttiamola di così ok quindi non proprio una spesa diciamo leggerissima però va beh insomma ormai ormai stanno diventando abbastanza consuete per le per le edizioni belle corpose di giochi belli corposi costi di questo tipo ok quindi amici ho deciso di fare appunto questo di fare questo pledge ok fatemi sapere fatemi sapere se anche voi avete deciso di pleggiare questo gioco fatemi sapere se siete curiosi di questa se vi interessa l'ambientazione se vi interessano le meccaniche cosa vi piace di questo gioco se avete deciso ovviamente di sostenerlo io vi ringrazio molto per aver guardato questo video spero vi sia stato utile in qualche modo e mi raccomando rimanete sintonizzati continuate a guardare a guardare i nostri video sapete se siete appassionati di euro game complessi cazzuti e bellissimi come questo promette di essere speriamo che lo sia ragazzi andatevi a vedere il tutorial ed esempio di gioco di scholars of the south tigris l'ultimo euro cazzutissimo l'ultimo german cazzutissimo che abbiamo avuto occasione di parlare di cui abbiamo avuto occasione di parlare ve lo linko qui a schermo grazie mille per aver guardato questo video ci vediamo i prossimi contenuti qui sulla maschera riposta ciao ciao